E' un Alfio Torriti più che soddisfatto dopo il pareggio ottenuto ieri a Cascia contro il Cosenza, buona la prestazione dei Granata che si erano portati in vantaggio con la punizione di Oliver Kragel. Sono molto soddisfatto anche al di sopra delle aspettative, onestamente parlavamo ieri nell'intervista che abbiamo fatto dove avevo dichiarato e mi aspettavo un passo indietro sotto l'aspetto fisico che poi portava comunque anche a qualche altra difficoltà sotto l'aspetto tattico. Io invece assolutamente, i ragazzi ancora una volta mi hanno sorpreso in positivo, sono molto soddisfatto assieme allo staff anche al di sopra di quello che appunto pensavamo. A prescindere dal risultato che lascia il tempo che trova perché siamo sotto fase di preparazione tutti e quindi come per noi e per loro, io ho avuto delle risposte positivissime, individuali e collettive. La squadra oggi in fase di possesso ha fatto veramente qualcosa di straordinario a mio modo di vedere, visto e considerato anche i tempi che sono trascorsi da quando abbiamo iniziato e i concetti che abbiamo cercato di proporre alla squadra. Affrontavamo il Cosenza che veniva a prenderci uomo contro uomo, non era facile, alcune volte siamo riusciti bene ad uscire, alcune volte dobbiamo sistemare qualche situazione sulla fase di possesso come è giusto che sia perché i tempi sono quelli ed è giusto che sia così. Però abbiamo fatto alcune giocate importanti che poi ci hanno portato anche a concludere a rete, non siamo riusciti a far gol ma a due o tre occasioni penso che i ragazzi sono stati veramente bravi. Io penso che tutto quello che fino ad ora abbiamo proposto i ragazzi con le difficoltà situazionali e logistiche per quelle che sono i carichi di lavoro hanno cercato di proporli nel miglior modo possibile quindi dobbiamo essere veramente soddisfatti.